Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo mini video di mai dire ciurma giusto abbiamo deciso di chiamarlo così ragazzi Yeah buongiorno Con me c'è tutta la ciurma c'è Barbaruffa e c'è Marcus Cron E stiamo guardando Mai dire ciurma Mai dire ciurma ar Stiamo guardando una mia partita di Susa Che significa? Ricordati? Super Slime Secret Agent No quello è Sa Però non mi ricordo cosa sta la U Sei un serpente a sonare Acido Acido Sei un serpente acido Sei un serpente acido perché sei tipo antipatico ecco Esatto esatto Allora spieghiamo un pochino come funziona questo format ragazzi Allora questo format è noi che registriamo una decina di minuti di gameplay A testa Attenzione ci riesce però in tanti Io sono pro ragazzi Guarda che rimbalzo Guardalo Si è salvato E poi lo commentiamo in stile gelappas Indy per cui il nome è mai dire ciurma Yeah E possiamo vedere Tato che a differenza di me e di Barbaroffa invece Sembrerebbe essere Secondo me Barba qui ha barato Ma insomma Secondo me si è allenato Vedi lo score? Lui si è allenato Poi ha cancellato il gioco No 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 Io non paro Si 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 lo fai Lo fai lo fai Hai scoreggiato Ti la vedete Attenzione Guardalo Attenzione Tentenna No Non ci sta neanche provando Attenzione Mi stavo abituando al gioco L'ho giocato tipo 20 minuti Si si come no come no Ha contemplato il suicidio Guarda lì Comunque questo gioco un pochino E il format mi ricordano molto Takeshi Castle Si è un po' Takeshi Castle Che è un capolavoro Mamma mia che bello Quindi adesso dovremmo dare dei nomignoli agli uomini Come facciamo la Cialappas Allora possiamo vedere Giorgio Albi Flonfe Ah questi sono i Tampax di Fon No vabbè No Ma qua ho fatto il classico errore alla Barbaroffa Giorgio Tampi Flonfe viene dall'Oklahoma E le sue passioni sono i pomodori e morire E mangiare i violini E mangiare i violini Attenzione Io qua sto ragionando come fare Ma ci avevo ragionato anch'io Però se ci riesce Oh Non è giusto Io ci ho messo un sacco Tu ci hai messo precisamente 47 tastiere della Trust Si è vero Molto vero O erano 46 Erano 47 47 Allora Con tanti trusti Vediamo C'erano un sacco di trusti roti Vediamo il signor Quittolo che però scavalca Cioè secondo me Barbaroffa aveva fatto una roba più figa oltretutto E' vero Una volta tanto ecco qua Attenzione Però qui possiamo vedere il pro player all'azione Il controllo aereo dai Non abbiamo niente da ridirgli Barbaroffa si è imparato a memoria le map Ma si Non ci si può fidare Sono suicidato E' morto da stronzo Anche lì Ora rimuore da stronzo Vediamo un po' Se finisce il livello No Ecco qua Un'altra bella morte stronza Oh Almeno un per due c'è là C'ho il pernacchione caldo Ma no E mi dispiace ma qui Quittolo si è cagato sotto Avete sentito il commento audio Adesso ce la fa Adesso ce la fa Ce la fa o non ce la fa No lo so Io devo aprire il microonde e riscaldo C'ho le pernacchie surgelate Aspetta Perché altrimenti Se le devo scongelare non sono pronte Ecco qua Ah ce l'avevi tu Grazie a te Sì e ne ho trovata una qui Ok Attenzione il pro player Che invece va lì a peccare Ricordo che Barbaroffa ci è riuscito quasi subito lì Eh sì E ho parlato Ognuno ha le sue croci Ognuno ha i suoi tempi Cioè se Quittolo ci mette tanto Dopo un po' brucia comunque Sei morti Sei morti intanto Ehi Pappim Qui abbiamo fallito miseramente Guardate come prende il rimbalzo Come studia la situation Proprio Stolaido Mamma mia Proprio Proprio come una tigre Cioè prende il tempo Ah qua io ci ho sclerato Guarda qui Guarda qui Ecco l'epilezia Io qua ci ho sclerato Epilezia attenzione Dun 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 Credo che a un certo punto si possa vedere il fatto che mi sono incazzato Non da poco Guarda se zoomate ragazzi Se mettete pausa e zoomate sullo mio Sullo slime Come potete vedere La classica vena giapponese Che gli si confia Esatto E che lei la vena di Quitto No ma che sta a dire Sta a fare l'imitazione di Michael J. Fox Non lo vedo No ma no Ma no Povero Michael No è uno È un figo Sei una persona orribile Sì E questo è vero Ok ce la fa Ce la fa Ma muore Miserabilmente Porco Scusami Ma perdonami Ma il microonde ha fatto Il microonde Un attimo che Ah sì sì C'ho le pernacchie pronte Vai Calde calde di microonde Preparati perché Ne saranno un sacco di pernacchie Eeeh Oh le devo aprire Le devo scartare Aaaaaaah Fu il tempo Mi sono anche un po' scottato le dita Senti che sonorino Ragazzi è pronto in tavola Che schifo Le pernacchie di barbaruffa Ma che state a cucinare Porpette de merda Ignorante come una zappa Madonna Perché sei precipitoso E vai a sinistra Invece devi aspettare il tempo Ma io stavo precipitando Per l'appunto Quindi pensando Che dovrei essere precipitoso Ma tu stai precipitando E sei precipitoso Perché ci sono le precipitazioni In questo livello E' vero E' quello E' esatto E' chi più in alto va Precipita inception Su una capra Su una capra morta Qua stavo sglerando Che non campa Guarda Guarda lì Senti ma il resto Di sei minuti Sono tu che fai Don 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 Sì più o meno Mamma mia Non sono andato tanto avanti Se devo essere sincero Frustrante quanto un adolescente Che cerca di capire La sua sessualità Guarda lì Ce l'abbiamo fatta Ce l'ha fatta Quante morti? 175 No Attenzione Livello 9 Oddio questa è la mia nemesi Il livello che odio Sì Vedi che da sotto Era più facile Barba Quinto lo passa Basso Evita di fare Se lo fai al primo Se lo fai al primo Non mi ricordo Se l'ho fatto al primo Non mi ricordo No Decisamente no Di qui meriti Un Anche qua Aspetta Aspetta Mi è venuta un'idea Tu Fai Il Il E io ci aggiungo Il bagnato sotto Ok Che schifo Alla prossima Io faccio il bagnato Vai Ok Siamo pronti Siamo pronti No Merda No Ragazzi Report Canale di GWT Report Flag Violazione Ma report Anche tunnel OTG3 Vabbè Lo stesso Madonna Guardalo Guardalo Che maledetto Vabbè Però Che schifo Quanto è trash Questa cosa Raccontaci Quintolo L'emozione Che hai provato Mentre facevi Questo livello Era 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 Avevo paura Di quello Che avresti detto Oggettivamente Non avessi mai immaginato Che avremmo detto No mai Ho cambiato lato Ho detto No non mi piace Ti la vado dall'altra parte Tre autistici Potremmo guidare tutti i pullman È vero Assolutamente La patente d'autista Ce l'hai Io ce l'ho da autistici D'autistici Attenzione Vediamo se hai imparato La dura lezione del gol La regola dell'amico La regola della lava Attenzione Madonna Però c'ha delle hitbox di merda Sto giochino Devono aggiustarle Eccolo No No Attenzione Attenzione Questa era un po' sciolta Calda ragazzi Mi spiace Perché c'è la lava Mi hai venuto un'idea Per migliorare l'esperienza Dei nostri utenti Videoludica Videoludica Io urlo in preda al dolore Tu fai le pernacchie E ci alterniamo Vabbè Una volta Oddio che schifo Allora tu urli E io pernacchio Ok Sì ok Questo è molto tipo Attacco fulminante di colite Sì tipo Ok vediamo se la colite Sopraggiunge ragazzi Attenzione Mamma mia Mamma mia come andava Questo è il livello bastardo Ok Guardalo 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 Ma guardalo Che maledetto Mi sto tenendo pronto a urlare No No Ma che cazzo Mi stai raccontando Maledetto Cioè Guarda E disonore Anatrema su di te Cosa Cazzo Fa quest'uomino Guardalo 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 Ma di qualcosa Ti prego Adesso schianta Adesso ci deve permettere Di urlare Di spernacchiare Almeno una Ma guarda Ma cosa Ma tu l'hai già visto Sto livello No Si è visto Si è visto il lato Quando sono stata la prima volta Guardalo No 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 Che è questo Cos'è E io qui Avevo finito Oh no signore Perché Perché io Barba cambio Ok Il cambio Ok Aspetta Aspetta Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Signore La pizza prende a colazione No E io qui ho deciso Di fermarmi Perché è arrivato I miei dieci minuti Quindi signori Grande quinto Ma cosa Ma cosa Cresuggisto Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re Del let's play Wanna wait